Allora oggi parte fra poco la manifestazione carnevalesca a cui partecipano le classi dell'Istituto Comprensivo De Caro di Lancusi, un'iniziativa voluta caldamente già da qualche anno, sono oltre 4-5 anni che partecipiamo a questa iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale, dal sindaco il dottor Vincenzo Sessa, guadiuvato chiaramente dai suoi collaboratori, dalla dottoressa Maria Grazia Farina, vice sindaco, che ci supportano e ci spingono ad agire nell'ambito e per la comunità. In particolare quest'anno i ragazzi dell'Istituto con i loro insegnanti si sono cimentati nell'allestire questa manifestazione e questa sfilata lavorando sulle maschere tradizionali, quindi ogni classe ha una maschera scelta, hanno fatto anche all'interno delle classi delle attività di ricerche e di approfondimento sulle maschere e poi stamattina l'evento finale che li vede gioiosi, me lo auguro tempo permettendo, li vede gioiosi girare per le strade della nostra comunità insieme ai genitori. Genitori che io sento davvero di ringraziare perché come sempre si lasciano coinvolgere nelle iniziative che la scuola propone, quindi tanti laboratori abbiamo attivato durante le ultime mattinate a scuola, i genitori hanno collaborato in maniera perfetta, devo dire, con le loro competenze, con le capacità che hanno preparato dei vestiti meravigliosi, qualcuno ancora non l'ho visto perché sarà una sorpresa vederli realizzati e quindi auguro alla comunità una massima partecipazione come hanno fatto finora e come hanno fatto sempre e mi auguro che queste iniziative per la comunità insieme all'ente comunale possano essere ripetute in tante altre occasioni. Buongiorno a tutti, ci prepariamo a vivere questo momento di festa in compagnia degli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro. A tal proposito desidero ringraziare in modo particolare la dirigente che ha accolto il nostro invito, così come tutti i docenti, gli alunni, i genitori che si sono impegnati perché questa giornata possa riuscire al meglio. hanno organizzato anche un tema per la sfilata per cui vi è stato un lavoro importante su questa tradizione culturale che ci appartiene. A noi piace promuovere momenti che possano vedere protagonisti i nostri ragazzi e per questo un grazie particolare va al nostro sindaco dottor Vincenzo Sessa che ci raggiungerà in piazza al quale stanno molto ma molto a cuore i nostri giovani ragazzi, i nostri piccoli concittadini. Grazie.